Hanno chiesto e ottenuto per i loro dieci dipendenti il FIS, il Fondo di Integrazione Salariale, concesso dall'Inps come ammortizzatore sociale in caso di stipendio ridotto o azzerato dalla mancanza di lavoro. Una condizione comune a molte aziende durante la prima fase dell'emergenza sanitaria, ma che ai titolari di uno studio di elaborazione dati e buste paga è costato la denuncia per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Nei guai sono finiti un italiano e un cinese. La Guardia di Finanza di Prato ha scoperto che i dieci dipendenti hanno continuato a lavorare sia dall'ufficio che da casa, ricevendo lo stesso stipendio seppure la busta paga riportasse un importo ridotto. Attraverso il Fondo di Integrazione Salariale, i titolari dello studio hanno generato un credito di imposta da utilizzare a compensazione di precedenti debiti maturati con l'ente previdenziale. Complesse e laboriose le indagini della Guardia di Finanza, che ha passato in rassegna una grossa quantità di documenti e di e-mail attraverso cui è stato possibile ricostruire il lavoro effettivamente svolto dallo studio anche durante il periodo coperto dal Fondo Integrativo dell'Inps. I finanzieri hanno anche esaminato i tabulati telefonici di tutti i dipendenti per dimostrare il loro spostamento fisico da casa all'ufficio e viceversa. Grazie 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 Grazie